Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot. Benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di Eurojackpot. Lo sapevate che l'Estonia è la patria di Skype? In realtà, le basi del primo programma di telefonia via internet furono gettate da un ingegnere svedese e un collega danese, certi che nel 2001, con lo sviluppo delle reti Wi-Fi, bisognasse pensare di utilizzare internet per effettuare telefonate. E avevano ragione, ma a far diventare reale questa idea ci pensarono tre programmatori di Tullin. Era il 2003 e nel primo mese di vita Skype convogliò oltre un milione di utenti. Un avvio grandioso. E grandiosa è anche la cifra che vi sto per svelare. Il jackpot questa sera vale 56 milioni di euro. Colleghiamoci ora con la sala delle urne per seguire l'estrazione di oggi. Nella prima urna elettronica vediamo già le sfere in movimento. A breve scopriremo il primo numero estratto della nuova combinazione vincente. L'attesa è finita. Il primo numero di questa sera viene estratto ora. Il primo numero è... 40. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero... 16. Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero... 43. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo! È il numero... 24. Quinta sfera. Pronti a scoprirla? Con i due euro numeri potrebbe assegnare vincite milionarie questa sera. Il quinto numero estratto è... 14. Mancano solo i due euro numeri. E potrebbero assegnare il jackpot milionario in paglio oggi. Abbiamo il primo euro numero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot. È il numero... 1. Ultima sfera estratta per questa sera. Siete pronti alla possibile assegnazione del jackpot? Ecco il secondo euro numero. 5. Controlliamo ora la combinazione vincente. 14, 16, 24, 40, 43. I due euro numeri sono... 1 e 5. Vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato centrato il 5 più 2, ma moltissimi giocatori hanno comunque realizzato ricche vincite, sia in Europa che in Italia. Seguiteci sul sito web eurojackpot.it per scoprire dove sono state realizzate le vincite. Non perdetevi l'appuntamento con l'altra grande estrazione del martedì. Oltre a Eurojackpot, vi ricordo che oggi un jackpot milionario può essere assegnato anche con l'estrazione di Super Enalotto. La caccia al jackpot milionario prosegue venerdì prossimo. Il jackpot in paglio sarà pari a... 67 milioni di euro. Per aggiudicarsi la cifra stellare del nostro jackpot bastano soli 2 euro. Siete pronti a giocare i vostri numeri preferiti? Noi vi ringraziamo per averci seguiti e vi aspettiamo venerdì prossimo con una nuova estrazione. A prestissimo! Grazie a tutti!